buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 22 aprile 2024 ebbene dovremmo essere in primavera anzi abbiamo avuto un assaggio d'estate dei giorni scorsi ma ora siamo un po' riprecipitati nella brutta stagione il tempo oggi è ancora perturbato e speriamo che si rimetta almeno per il weekend per il ponte del 25 aprile che ormai è prossimo comunque oggi iniziamo una nuova settimana e come sempre partiamo dall'almanacco del giorno e vediamo qual è il santo che si festeggia oggi è San Leonida di Alessandria San Leonida come dice il nome era di origini greche ma viveva ad Alessandria d'Egitto che era stata conquistata da Alessandro Magno da cui poi deriva il nome e quindi aveva una cultura greca ma siamo nel terzo secolo quindi era già in atto il cristianesimo e San Leonida di Alessandria era una anacoreta che aveva dei figli che poi allevava nella religione cristiana però insomma era in atto la persecuzione e siamo nei tempi di settimio severo scoperto cristiano fu martirizzato a colpi di spada quindi San Leonida che si richiama a Leonida di Sparta anche lui morì però in maniera molto molto coraggiosa offrendo il capo al carnefice che lo stava uccidendo vediamo ora le previsioni del tempo Ebbene oggi sulle Marche abbiamo ancora piogge sparse e temperature inferiori alla media 10 la minima 15 la massima e c'è anche la neve c'è anche la neve nell'Appennino ad un'altezza di 950-1300 metri forte scirocco sulle coste il vento spirerà da sud-este sia nell'entroterra che sulle coste stesse le temperature purtroppo sono ancora in calo il mare è molto mosso ebbene il sole è sorto alle 6 e 12 e tramonterà alle 19 e 59 siamo vicini proprio alle 20 Allora detto questo passiamo alla lettura dei giornali apriamo anzi leggiamo la prima pagina oggi sul Carlino Marche dove si condensano un po' le notizie di tutte le province e vediamo come per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino si parla di elezioni ma di elezioni europee perché ieri il Partito Democratico ha consacrato l'inserimento in lista di diversi personaggi che sono della nostra regione ma non solo il Partito Democratico anche altre forze politiche e li vediamo qui quali sono i quattro candidati della nostra provincia e già il fatto che ce ne siano quattro è veramente una ricchezza almeno di proposte e di candidature vediamo voto poker europeo Morani, Ricci, Colpidì, Carloni e Seri per altri partiti il giorno delle candidature puntano a Bruxelles nomi eccellenti un grido in comune vogliamo vincere ed essere eletti ovviamente questa è l'aspirazione di tutti di ciascuno dei quattro le altre notizie abbiamo un articolo che riguarda il parco dello Zolfo a Pesaro beffa del parco prendi soldi ma fa poco o nulla dice il giornale a Fano il centro è in mano alle baby gang e c'è un nuovo grido d'allarme di fratelli d'Italia vediamo la provincia di Ancona Ancona scoppia una rissa fuori della discoteca quattro stranieri chiamano la polizia siamo stati aggrediti, asseriscono e poi c'è la versione dei gestori che li contraddice e dice stavano infastidendo tre ragazze studentesse si azzuffano per strada intervengono i carabinieri alla fermata del bus e poi a Iesi un Iesino pronto all'esposto perché racconta una odissea per una visita mi mandano a comunanza anche qui il problema delle visite diagnostiche è un problema che si estende non solo nella nostra provincia ma anche in altre località marchigiane vediamo la provincia di Ascoli e Fermo a fondo pagina operazione Alcipelago c'è stato scoperto un caporalato nei campi e in sette rischiano il processo sono quelle forme di lavoro abusivo che insomma non rispetta i termini di legge e poi a Ripatransone ci sono truffe in serie agli anziani il sindaco ammonisce state attenti lancia un appello perché insomma gli anziani persone più sensibili e più aperte ai contatti con gli altri sono veramente a rischio la nuova scuola di Venarotta è stata intitolata Don Milani e poi una bella iniziativa che ha raccolto tante adesioni fritto misto debutta senza boom ora si spera però nel caldo vediamo la provincia di Macerata alla stramacerata la carica di 800 ha battuto anche il maltempo una domenica di corsa una iniziativa che ha così riempito la festività a Macerata ad Appignano si parla di elezioni Buldorini lancia la sfida sono a servizio di tutti ha dichiarato mentre a Civitanova si è dato l'addio a William Mazzolini un edicolante un semplice edicolante ma un elemento prezioso per tutta la comunità si è spento ucciso da una malattia ebbene era un edicolante da 49 anni pensate ha passato una vita nel suo box della sua ediqua allora apriamo il giornale diamo un'occhiata all'interno e vediamo che un'intera pagina è dedicata alle elezioni europee e li vediamo qui tutti i quattro candidati pronti alla partenza ciascuno ha un veicolo diverso ebbene qui abbiamo Lamorani Lamorani che corre a piedi è una podista mentre il sindaco Ricci non poteva non usare la bicicletta dato che ha compiuto il percorso da Fano a Roma in cinque tappe in bicicletta evidenziando i suoi ideali e percorrendo e facendo anche promozioni ovviamente per la sua candidatura in tre regioni d'Italia le Marche l'Umbria e il Lazio e poi vediamo il sindaco di Fano Massimo Seri che ha una lambretta e infine addirittura Mirco Carloni in sella ad un cavallo che si guarda un po' spaventato perché poi Mirco Carloni non è un peso leggerissimo ma questo non conta nulla comunque era una ironia ovviamente perché Giombetti sa benissimo interpretare con molto spirito ma molto spirito pacifico amichevole le caratteristiche dei candidati vinceremo è il logo di tutti ieri la direzione centrale del Partito Democratico ha ufficializzato i candidati per le elezioni europee e per la prima volta per il territorio provinciale corrono due due esponenti del partito il sindaco Matteo Ricci e l'ex deputata Alessia Morani non era mai accaduto prima e chi era e poi insomma è anche difficile che le Marche riescano a nominare un candidato a leggere un candidato europeo in passato ne sono stati eliminati due e li ricorda il resto del Carlino si tratta di Francesco di Francesco Baldarelli e di Luciana Sbarbati uno per quanto riguarda appunto i democratici quell'altra era esponente del partito repubblicano va detto che corrono per un posto in Europa altri due esponenti politici della provincia e cioè il sindaco di Fano Massimo Seri che corre per azione di calenda ed il deputato leghista e presidente della commissione agricoltura della camera dei deputati Mirco Carloni e qui vediamo delle interviste che vengono fatte ai candidati per il sindaco Matteo Ricci e il tempo della riscossa alla fine l'Europa è una corsa una in più e lui non vede l'ora di cominciare a farla lui di corse è esperto ha fatto appunto questa lunga corsa corsa questo ha percorso diciamo questo itinerario da Fano a Marotta in cinque giorni è stata anche questa un'impresa anche se ha usato in certi momenti la bicicletta elettrica perché insomma diceva che non era molto allenato ebbene la domanda era certo della sua candidatura il sindaco risponde ero certo del sostegno che ho avuto in giro per l'Italia con la presentazione del mio libro pane politica a cominciare da Roma e quella è stata già un'iniziativa che ha convalidato reso ancora più presente il nome di Ricci a livello nazionale e poi c'è stata a livello locale quella cena megalitica di 1600 posti che ha organizzato a Campanara e poi questa lunga insomma Ricci ne scogita una dietro l'altra e poi questa sbiciclettata fino a Roma conflitti in vista nel partito democratico dice Ricci no no il partito è coeso ognuno ha ovviamente una sua campagna elettorale da portare avanti e a proposito della Morani dice che ognuno farà la sua la sua parte ma tutti noi condividiamo gli stessi ideali questo è un po' il discorso che ha fatto Ricci riferito poi alla candidatura della Morani e invece qua vediamo che Carloni e Seri si sfideranno per quanto riguarda Fano ma ovviamente anche nei collegi elettorali in cui gli stessi opereranno due candidati fanesi Carloni è già partito da mesi con la campagna elettorale la sua candidatura è stata lanciata dal segretario della Lega Matteo Salvini già nel settembre del 2023 quindi Carloni è un po' che opera a livello interregionale mentre Massimo Seri ufficile ufficializzerà la sua candidatura proprio mercoledì prossimo in un incontro organizzato nella sede della cooperativa Tre Ponti credo forialmente nell'Europa ha detto Massimo Seri che però deve essere rafforzata e riformata perché nei momenti importanti possa svolgere il suo ruolo nell'interesse dei paesi membri e allora sarà una bella sfida e qua abbiamo anche un'intervista ad Alessia Morani Morani io sono io ci sono e punto a vincere ha dichiarato certamente ed ho anche il ginocchio che mi è tornato a posto risponde ridendo insomma anche lei sdrammatizza per quanto riguarda anche la sua efficienza fisica dato che insomma ha avuto qualche problemino ed ora parliamo di sicurezza di sicurezza a Fano ebbene dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi nei pressi di piazza Andrea Costa dove c'è stata una rissa con accoltellamento ebbene questi episodi che insomma evidenziano come ci sia un problema nella città di Fano si sono ripetuti ed è stato aggredito un passante da alcuni giovani nordafricani insorge quindi di nuovo Fratelli d'Italia che il tema che ha posto il tema della sicurezza tra le priorità della sua campagna elettorale ebbene Fratelli d'Italia dice che il centro di Fano è pericoloso vanno fermate le tante baby gang forse tanto baby non sono l'ennesimo episodio si è verificato l'altro ieri quando un gruppetto di giovani nordafricani ha aggredito un passante segue quello avvenuto venti giorni fa con un egiziano che ha ferito con un'arma a lataglio un tunisino comunque tutto è stato immortalato dalle videocamere che sono dislocate in città ce ne sono decine e decine sparse in tutto il territorio a centinaio addirittura oltre un centinaio sparse in tutto il territorio comunale per Loretta Manocchi che è la segretaria del partito Fratelli d'Italia dice sono necessarie misure urgenti tra cui come proponiamo da tempo il rafforzamento della polizia locale perché possa organizzare servizi esterni anche notturni e sia dotata di strumenti utili per affrontare il crimine serve inoltre una profonda riqualificazione urbana con l'installazione di telecamere nonché l'adozione di un'ardonanza che vieti l'uso del vetro in centro storico e in zona mare il vetro per quanto riguarda bottiglie che rotte possono essere usate come arma da taglio insomma sono pericolose e bisognerebbe fare qualcosa di più secondo Fratelli d'Italia ma il problema della polizia locale che è stata incrementata in questi ultimi tempi dovrebbe essere secondo appunto questo partito di centro-destra essere incrementata ancora di più per poter così vigilare certi punti che poi sono sempre quelli all'interno del centro storico che sono considerati a rischio a Cagli vediamo che anche a Cagli ci sono problemi di ordine pubblico litiga al bar subito ritirati fucili e pistole imputato in un processo per un diverbio avvenuto in un bar un cacciatore residente a Cagli è stato oggetto di una misura molto molto drastica per quanto riguarda gli agenti dell'ordine pubblico ebbene i carabinieri gli hanno ritirato tre carabine una doppietta un fucile sovrapposto Beretta un fucile semiautomatico Benelli una pistola semiautomatica calibra 22 una pistola Flaubert a canna lunga calibra 9 oltre a qualche centinaio di munizioni aveva veramente un'armeria dentro casa e per sicurezza tutto questo è stato ritirato dopo che insomma questa lite è avvenuta il sindaco Matteo Ricci è atteso a Roma in senato questa volta non per questioni elettorali ma per quanto riguarda l'inchiesta che è ancora in atto sulla discarica di riceci ebbene la commissione vuole sapere la versione del sindaco stesso che ha più volte dichiarato di non sapere nulla e di non essere stato messo al corrente di quello che accadeva per quanto riguarda questa discarica ed ora mettiamo da parte il resto del callino e apriamo invece il Corriere Adriatico vediamo l'apertura su Fano e si parla ancora di quanto è avvenuto in tutta quella serie di sedute del Consiglio Comunale dedicata alle controdeduzioni alle osservazioni portate dai cittadini dalle associazioni al piano regolatore che ormai è stato adottato definitivamente venerdì scorso ex zuccherificio questa volta la parola ai residenti dell'ex zuccherificio hanno parlato un po' tutti in Consiglio Comunale è stato l'argomento che ha tenuto più banco è stato l'argomento più contestato dalle opposizioni perché questo nuovo progetto di dare alla funzione di questa area che è abbandonata da tanto tanto tempo una funzione di un di un'area dedicata allo stoccaggio delle merci alimentari di un polo logistico di un polo logistico alimentare non piace affatto non piace affatto perché si temano che ci siano ripercussioni ambientali di rilievo in modo particolare il traffico di tanti tanti automezzi potrebbe creare inquinamento e quindi si vuole altro si vuole qualcosa più soft qualcosa che sia meno meno impattante nel territorio ebbene questa volta dopo che lo zuccherificio è passato è passato per il cuffio per il rotto della cuffia diciamo meglio ebbene insorgono i residenti quei residenti che hanno inoltrato un esposto alla magistratura e che ovviamente hanno inoltrato la loro protesta all'amministrazione comunale siamo i quattro gatti del ponte hanno esordito in una lettera a commento di quanto è avvenuto a commento del confronto che c'è stato nel consiglio comunale e della decisione finale siamo i quattro gatti di via del ponte quelle persone che si battono per un diritto fondamentale quello alla salute riconosciuto a tutti gli altri residenti di questa città siamo molto delusi ed indignati hanno dichiarato per la mancanza di rispetto e sensibilità dimostrata nei nostri confronti così inizia questa lettera a commento appunto loro sono rimasti delusi perché poi il polo logistico è passato e quindi se poi il piano regolatore giungerà veramente alla fine così come è stato redatto appunto l'ex zuccheri felicio avrà questa nuova connotazione e il caso ultramarcaffè comunque va risolto lo dicono i responsabili della lista civica noi civiche che difende le scelte del piano regolatore che è stato adottato la lista noi civiche non disconosce non svicola per quanto riguarda il problema di questa azienda della torrefazione del caffè che metterebbe degli odori insopportabili per i cittadini che risiedono nei pressi dove opera l'azienda stessa dice che questo problema va risolto e come va risolto va risolto effettuando i controlli cioè gli organi deputati che devono controllare le aziende per quanto riguarda la loro opposizione nei confronti della legge devono operare e in questo caso devono fare i rilievi delle emissioni di questa azienda e se poi queste sono superiori ai limiti di legge devono intervenire per ripristinare la legalità in questo modo noi civiche intende risolvere questo problema ma il problema dello zuccherificio hanno segnalato non è stata l'unica decisione assunta dal piano regolatore generale testè approvato ci sono tante altre migliorie che hanno riguardato tutta tutta la città ne leggiamo qualcuna vediamo per esempio le varianti verdi che risolvono un problema annuso per tanti cittadini che dovevano pagare l'Imu e purtroppo non riuscivano a fare partire le lottizzazioni è stato risolto il problema della monetizzazione dei parcheggi come quello del Paderino e il Paleotta abbiamo stoppato la trasformazione di villette bifamiliari in condomini e affrontato diverse problematiche legate alla zona industriale hanno detto appunto e vediamo anche qui quest'altro articolo ieri c'è stata l'assemblea della Proloco nella sede della cooperativa Tre Ponti a Fano la Proloco che è veramente il braccio destro dell'amministrazione comunale per l'organizzazione di tanti tanti eventi che altrimenti costerebbero molto di più invece si può utilizzare la forza del volontariato sono tanti volontari che operano al servizio della città nel nostro territorio ebbene hanno presentato i responsabili della Proloco il bilancio con un giro di non dico di affari con un giro appunto di situazioni contabili pari a 500 mila euro e con un utile moderato 9 mila euro che poi sarà riversato sempre sarà impiegato nelle attività della Proloco stessa a illustrare il bilancio è stato l'amministratore Michele Brocchini dopo la diciamo così la presentazione delle attività che ha fatto il presidente Giacomo Grandicelli e qui vediamo la vicepresidente Montefusco insieme a Gino Bartolucci che è il segretario della Proloco si è svolta ieri dunque nella sede della cooperativa questa assemblea annuale è veramente le iniziative a cui collabora del tutto disinteressatamente la Proloco sono tantissime a partire dalla Befana e poi l'aiuto che si dà la Befana per i bambini purtroppo quest'anno è saltata per il mattempo ma ovviamente il bilancio si riferisce al 2023 poi abbiamo le feste del Carnevale con i tre ai venti che organizza in modo diretto oltre a assistenza alle chiusure alle transenne che dà ai corsi mascherati i tre eventi sono la festa dei bambini il castagnolo d'oro il meglio della gruppa e poi il sostegno dato alla Colle Marathon e vi ricordiamo che il 5 maggio ce n'è una prossima edizione organizzazione della Fano dei Cesari in gir per fan la festa del socio della BCC la festa di San Paterniano e poi il Natale che non ti aspetti insomma veramente sono tante le iniziative che grazie alla Proloco e a tutta la sua organizzazione di volontariato riescono e riescono nel migliore dei modi giriamo ancora la pagina siamo a Fraterosa perché Fraterosa perché Fraterosa da oggi inizia la sua settimana di capitale della cultura dalla terra si forgia l'arte è la natura della cultura ed è il vice presidente scusate il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini che presenta la settimana della cultura di Fraterosa al centro non possono essere che le terre cotte perché sono veramente il prodotto tipico di questa piccola perla incastonata nelle colline metaurensi la terra è logio della cultura non si poteva scegliere un titolo più esemplificativo per celebrare la settimana di capitale della cultura di Fraterosa quel paese adesso ve lo dico testualmente quel paese dolce e rotondo leggero e maneggiabile come un vaso come lo aveva descritto Paolo Volponi veramente qui siamo tra poesia e arte vediamo anche le notizie di Senigallia eccole qua Senigallia rivendica il brand del Summer Jamboree il Comune è pronto a riprendersi l'esclusiva si va verso la firma della Convenzione per il triennio 2024 2026 e lo Winter Jamboree ritorna alla Rotonda e beh sarà una manifestazione che viene così esposta proposta per tutto l'anno e non solo per qualche giorno nella stagione estiva rock and roll swing alla Rotonda tutto l'anno per un Gembori senza stagione e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto